BINCE BINCE! Va a prendere il mio fucile! Va presto! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 No, un momento, ascoltate Vi spiegherò esattamente cosa è successo Però abbiate pazienza perché ci troviamo di fronte a un fenomeno multidimensionale Che la gente incolta non può comprendere Mettila via, Pioford Queste pietre le conosco Mi è capitato di vederle per la prima volta otto giorni fa Bings mi stava raccontando di avere novità sulla scomparsa del padre Quando all'improvviso sbucò dal nulla Bad Bill e le strappò via la bisaccia Dovevo catturare quello sciagurato e mostrargli chi indossa il distintivo in questa città Ma fu un lavoro che accadde le strumenti? Dovevo immaginarlo Bad Bill si era alleato alla banda di Jenkins Il loro nascondiglio era nei calanchi E' dura, ragazzi! Avevo! La banda di Jenkins non vive nei calanchi Hanno un podere alla baia dello scheletro Meglio Attenzione Rango Potrebbe essere una trappola Vediamo se so ancora cavarmela A saltare me la cavo bene Perfondo Grazie a tutti. 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 Tutto lavoro di quadrici. Grazie a tutti. Su, avanti. Equilibrio è meditazione per il corpo. Io già me lo ricordo, è il tipo che è morto. Su, avanti. 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 Riccarsi alle pareti è come andare in bicicletta. In realtà non ci sono più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.